La faccenda degli omosessuali e cristianesimo è dedicata a questione ancora aperta. C'è chi ritiene che Davide e Gionata fossero bisessuali, Ruth e Naomi anche, per quanto questa la ritengono parese forzatura. Il centurione e il servo guarito da Gesù fossero gay, che cosa comunque sarebbe stata normale fra i romani, ma anche quest'ultima cosa è abbastanza dubbiosa e da verificare. Su Davide e Gionata sembra, a prima vista, che effettivamente le cose siano così. Metto solo in pressione i passi biblici, così potete fare le vostre riflessioni. Inoltre, c'è chi crede che San Bacco e San Sergio fossero gay, resante, felicità e perpetua, addirittura vengono rappresentate e abbracciate fra di loro, vengono ritenute due donne omosessuali. Ci sono tanti di cui si discute, se fossero gay oppure no, come addirittura da Don Bosco si dice questa cosa, su che base ancora noi lo so. John McNeill è stato uno psicoterapeuta ed ex gesuita americano, omosessuale, si è stato anche deportato nei campi di concentramento. E' stato cacciato dalla Chiesa Cattolica perché era convinto che non esiste contraddizione fra essere gay, sessualmente attivi, ed essere cattolici. Ha scritto dei vari testi, come omosessualità e cristianesimo, e libertà, gloriosa libertà. E di recente è stato, proprio prima che avevano lì, è stato anche fatto un documentario su di lui. E' stato insieme allo stesso uomo per 50 anni, e poi nel 2008 l'ha sposato, e poi lui è morto nel 2015. Cioè, mi riferisco a McNeill, che morì nel 2015, a 90 anni d'età. Ci sono alcuni studiosi della Bibbia che credono che non sia la Bibbia ad essere omofoba, ma gli esegeti, che erano interpretati in modo omofobico. Questi studiosi non credono nemmeno che il revitico, in realtà, fosse una contenessa delle condanne nei confronti dell'omosessualità. Allora, in descrizione vi metto il link dove si parla di questo argomento, su cui non posso esprimermi. Poiché non sono un esperto della Bibbia, e non saprei come valutare. Oggi, i vetro cattolici, gli anglicani, i validesi, e alcune chiese minori, celebrano unione omosessuale. Questo è un motivo di rottura ancora più forte con cattolici romani ortodossi. E infatti, c'è un altro motivo per cui gli anglicani scappano verso la chiesa cattolica. Inoltre, la chiesa anglicana ha rischiato lo scisma a causa delle accettazioni delle unioni gay, ma soprattutto dopo l'ordinazione di un vescovo gay, che è dovuto accettare come compromesso il fatto di rimanere casto per tutta la vita. Comunque, anche gli ebrei riformati, di cui dicevo prima, accettano le unioni omosessuali.